Salve, sono Carlo Cardarelli di Acumarche. Questa mattina di sabato per il Viale La Vittoria ci sono molti gazebo di prodotti alimentari. Tra di loro abbiamo trovato un banchettino di Vox Marche. Vox Italia è una nuova formazione e abbiamo delle persone che distribuiscono dei volantini. Chiediamo loro delle informazioni. Qui con noi c'è Tiziano Tanari che è uno dei coordinatori del Movimento Nazionale e al quale chiediamo un po' di spiegarci le motivazioni di questa nuova formazione. Allora, cosa ci puoi dire perché avete fatto questo banchetto qui a Dancona e le motivazioni del vostro nuovo partito? Buongiorno, abbiamo fatto questo banchetto oggi qui a Dancona perché in molte e qualche decina di province e città, cittadine, abbiamo oggi deciso di iniziare a scendere in piazza, a farci conoscere dalle persone anche personalmente, anche in contatto con contatti diretti. Vox Italia nasce perché c'è esigenza di qualcosa di nuovo. Una nuova visione dell'economia, una nuova visione della politica, una visione a lunga scadenza. Oggi le visioni sono abbastanza distrette, i programmi sono fatti sui sondaggi, non c'è una visione, non c'è un futuro per l'Italia e noi oggi dobbiamo riprendere un pochettino in mano il progetto Italia, il progetto del nostro paese, per i nostri figli, per le generazioni che verranno perché tutto quello che è stato costruito negli ultimi 25 anni è, diciamo, per dirlo in un modo soft, distruttivo. Stanno portando il nostro paese, lo stanno riducendo a un paese del terzo mondo, le politiche in particolare con i vincoli europei di quest'Unione Europea verso la quale noi siamo fortemente critici, cerchiamo senz'altro di riportare un'informazione e speriamo anche formazione a tanti cittadini perché oggi quello che i mainstream ci propinano purtroppo è un'informazione manipolata, strumentale e soprattutto un paese. Questa formazione politica, diciamo, da chi è guidata a livello nazionale e dove si colloca nell'arco costituzionale? Allora, la cosa bella è che è guidato da un piccolo gruppo di persone cittadini comuni. Abbiamo, diciamo, che il nostro ispiratore ideologo è il filosofo, il giovane e bravo filosofo Diego Fusaro che rappresenta per noi un punto di riferimento. Lui, essendo un libero pensatore, è, diciamo, un soggetto, una persona esterna al partito per quanto riguarda l'organizzazione e la struttura ma ne rappresenta in qualche modo la voce e il megafono dei nostri valori principali. Quali sono questi valori? Sono i valori costituzionali. Noi siamo per riapplicare la Costituzione sia come modello economico che come modello di società. Vogliamo che lo Stato faccia il suo dovere di Stato e siamo totalmente in antitisi a quello che oggi è il pensiero globale dominante che è il pensiero neoliberista. Che cosa ci dice il pensiero neoliberista per tanti cittadini che magari non sono efferati in materia? Dice lo Stato, essendo inefficiente, dispendioso e tante volte corrotto deve stare da una parte, ridurre al minimo il suo intervento nell'economia e non solo e dare spazio alla libera imprenditoria, alla libera iniziativa privata perché questa è quella che può garantire la migliore efficienza. Allora questa è una narrazione totalmente sbagliata perché dà potere invece che allo Stato e quindi ai cittadini dà potere alle grosse strutture economiche e finanziarie di cui l'Unione Europea è l'espressione più forte di questo potere diciamo ormai transnazionale e extranazionale. Noi vogliamo riportare la nostra capacità, la nostra autodeterminazione e la possibilità di decidere il nostro futuro a livello nazionale. Concludo dicendo che oggi c'è un'altra narrazione esageratamente ipotica che ci dice che l'Unione Europea unisce i popoli, unisce le nazioni in un unico afflato quando invece se andiamo a guardare nelle pieghe della Costituzione dei vari trattati europei vediamo che oggi le regole stesse dell'Unione Europea mettono in competizione gli Stati l'uno con l'altro mentre in un gruppo di Stati autonomi, di nazioni autonome con una propria sovranità è possibilissimo e è doveroso e utile cooperare. Quindi se vogliamo degli Stati europei che cooperano bisogna cambiare radicalmente quest'Unione Europea in sostanza per noi da uscire da quest'Unione Europea e ricostruire un'altra forma di cooperazione dove gli Stati collaborano e non competono. Quindi diciamo Diego Fussaro è conosciuto un po' come il filosofo di un marxismo abbastanza revisionato vi trovate più sulle posizioni di sinistra o su posizioni di destra? Allora direi che questo qui è un po' il nocciolo della questione perché la sintesi che ha fatto Diego Fussaro che ci ha ispirato è stata direi eccezionale in quanto lo slogan valori di destra e idee di sinistra racchiude un pochettino tutto cioè non è che la destra o la sinistra che oggi sono letteralmente scomparse sia come rappresentatività sia come ideologie quindi proprio sono scomparse nessuno le rappresenta più in modo degno e ciascuna rappresenta dei valori dei valori che vanno salvaguardati la Costituzione racchiude questi valori di destra e di sinistra dicendolo in modo armonico, in modo perfetto noi abbiamo la migliore Costituzione del mondo che oggi è totalmente disattesa totalmente emarginata dietro la volontà, dietro lo strapotere dei trattati e dei vincoli europei siccome l'Unione Europea è impostata su un tipo di filosofia economica e politica di stampo liberista la nostra Costituzione è di stampo chienesiano cioè proprio il giorno e la notte noi siamo per il giorno della Costituzione e non per la notte buia e lo stiamo vedendo da almeno dieci anni dei trattati europei degli articoli della Costituzione io penso all'articolo 1 sulla sovranità che appartiene al popolo penso al no alla guerra all'articolo 11 questi articoli qui che posto trovano in questa formazione? sono la base perché quando noi parliamo di sovranismo in modo quasi dispregiativo di populismo noi ci riferiamo alla sovranità e al sovranismo costituzionale in cui la sovranità appartiene al popolo che lo esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione quindi la sovranità è del popolo e non ha niente a che vedere con il becero nazionalismo che oggi vediamo purtroppo in tanti non popoli europei ma dirigenze, governi europei che ancora lo manifestano in modo veramente quasi criminale se vogliamo di fatti quest'Unione Europea è costituita di fatto oggi gestita da un asse franco tedesco che chiunque lo può vedere dove l'Italia è la vittima predestinata dopo la vittima involontaria, immolata che è stata la Grecia immolata ai sacri vincoli europei noi abbiamo assistito alla distruzione e alla violenza nei confronti di un popolo e di un paese senza battere ciglio questo è vergognoso e quindi noi siamo per la sovranità non del popolo italiano ma per la sovranità di tutti i popoli verso le loro democrazie e verso i loro governi e quando un popolo è sovrano e democratico può permettersi di cooperare con gli altri e non di competere parola di cui oggi è stato più che abusato e a tutti i livelli grazie a questo pensiero unico delirante liberista per quanto riguarda dicevo l'articolo 11 contro la guerra che ne pensate della Nato e quest'alleanza? qui è la cosa un pochettino delicata perché stiamo ancora stilando il programma è chiara e ferma la nostra opposizione a questa Nato per cui io qui mi permetto di esprimere un'opinione prettamente personale credo che ci debba ancora essere spazio per forme di alleanze di collaborazioni ma in una prospettiva di pace non una prospettiva di aggressione e parlare oggi di blocchi parlare oggi di annullare trattati per la non proliferazione nucleare credo che siano forme di demenza di demenza non so come dire cioè inspiegabile che noi andiamo decisamente a combattere l'uscita dell'Europa l'uscita dall'Euro qual è la vostra posizione? allora bravissimo ti ringrazio per la domanda questa è la nostra diciamo un po' la chiave di partenza quando noi mettiamo in moto il motore questa Unione Europea è un crimine contro l'umanità e contro i popoli europei noi non vogliamo ovviamente uscire dall'Europa che l'Europa ha una connotazione geografica noi siamo l'Europa noi vogliamo cooperare con i popoli europei che stanno penando quello che stiamo penando noi lo vediamo in Francia l'abbiamo visto in Grecia lo stiamo vedendo anche in Germania è proprio che il modello economico proposto nonché democratico anzi non democratico il modello politico proposto da questa Unione Europea è un abominio contro ogni logica di buonsenso ripeto sia a livello economico che a livello politico e quindi va decisamente contrastato prima e decisamente sostituito ma questo è nell'interesse di tutti i popoli di tutti i popoli chi parla io sono per l'Unione dei popoli europei ma tutti siamo europeisti io sono europeista e sono contro di voi che vuole uscire dall'Unione Europea ma l'Unione Europea è totalmente in antitesi col concetto di europeismo di fratellanza e di cooperazione dei popoli europei noi siamo in mano concedetemi il termine un po' forte ma non riesco neanche a giustificarlo per questioni di interesse di grandi capitali finanziari ed economici non è sufficiente ci deve essere anche una forma di demenza perché pensare di addomesticare interi popoli con le norme e le leggi che questi propongono è assolutamente insostenibile noi il nostro compito è quello di venire ad aprire gli occhi ai cittadini italiani e speriamo non solo dando informazioni dando una formazione piccoli concetti semplici basi che devono le basi che devono essere strumenti gli strumenti con cui leggere il processo politico economico con cui il nostro paese sta purtroppo sempre più sprofondando ma per riacquistare sovranità l'Italia dovrebbe cambiare tipo di politiche stampare moneta altrimenti non può fare una politica economica per stampare moneta quali sono le prospettive si può tornare alla lira effettivamente? Allora questo è il punto chiave il punto chiave perché uno Stato non può essere sovrano e non può essere non può ritenersi uno Stato libero se non ha una propria moneta la moneta è uno strumento che deve andare diciamo per dirlo in metafora sotto metafora di pari passo alla propria economia del paese uno Stato che ha un certo livello di economia un certo livello di capacità produttiva deve avere nel circuito economico una quantità di moneta sufficiente perché il prodotto cioè tutto ciò che viene prodotto possa essere scambiato allora noi oggi per fare io utilizzo spesso un esempio una metafora per spiegare un pochettino il meccanismo la moneta è per l'economia come la benzina per il motore se noi abbiamo un motore 5.000 di cilindrata per farlo funzionare bene dovremmo mettere una certa quantità di benzina se abbiamo un 500 di cilindrata la quantità di benzina sarà minore ora noi oggi ci troviamo con l'economia italiana che nonostante sia da oltre 20 anni sotto smantellamento di poteri stranieri con la collaborazione di soggetti interni al paese che ormai sono ben noti i nomi e le azioni e noi nonostante questo abbiamo ancora un'economia che la potremo paragonare a una delle nostre amate Ferrari solo che grazie all'Unione Europea la benzina che ci obbligano a mettere dentro il nostro motore non è neanche quella sufficiente per far girare una 500 e pensate di potervi presentare alle elezioni regionali qui nelle Marche? qui non lo so perché queste sono previsioni che potrebbero avere una risposta solo di tipo propagandistico non lo sappiamo dobbiamo vedere la risposta e la risposta io credo prevedo che sarà lunga perché le persone sono stanche disamorate sono disinteressate sono sfiduciate non credono più niente a nessuno come è comprensibile dopo 25 anni di politica dei più bassi livelli che si potevano concepire le persone sono totalmente apatiche nella stragrande maggiorata tranne una parte di tifosi tifosi di quel partito di quell'altro totalmente acritici che è quasi inutile parlare con loro anche con dati di fatto certi perché c'è diciamo una forma mentis che impedisce di un dialogo vero e costruttivo quindi ci stiamo muovendo sul campo minato è per questo che Vox uno dei pilastri dell'azione di Vox sarà la costituzione di circoli cittadini che saranno sì coordinati dagli iscritti ma saranno necessariamente aperti a tutti i cittadini di qualsiasi colore politico lo sia per avere momenti di incontro e di confronto nell'interesse comune perché noi dobbiamo capire secondo la mia opinione e non solo mia che di 60 milioni che siamo in 59 milioni in 500 milioni abbiamo tutti gli stessi interessi e non è logico che noi ci diciamo contrastiamo gli uni con gli altri non è logico che ancora ideologie assolutamente fuori dal tempo come la destra e la sinistra dividano persone che hanno la stessa anima e lo stesso e gli stessi obiettivi gli stessi bisogni quindi vorremmo cercare di riportare un pochettino l'opinione pubblica ad avere coscienza di se stessa e della propria lucidità che oggi grazie anche a un'informazione purtroppo miseramente manipolata e strumentale diciamo all'elite di potere ha reso un popolo quello italiano totalmente disinformato e disorientato su tutti quelli che sono i semplici aspetti fondamentali che costituiscono la nostra economia e la nostra realtà politica ci può illustrare questi volantini che state distribuendo molto bene le informazioni che contengono e a chi sono indirizzate iniziamo iniziamo con il primo volantino che è una semplice vignetta una serie di vignette dove dove simboleggia il rapporto fra l'Italia questa bellissima signora adesso di spalle la vediamo alla fine trionfante quando ha di nuovo raggiunto la sua sovranità e spiega un pochettino in modo così semplice e colorito quelle che sono le dinamiche che impediscono all'Italia di tornare la nostra madre patria di essere di nuovo sovrana poi abbiamo un altro semplice volantino non vogliamo fare grandi cose anche perché stiamo curando i programmi con le commissioni stiamo stilando un programma anche se abbiamo già un manifesto questo è un volantino che vuole simboleggiare che cosa la costruzione chiedo scusa dietro c'è anche una descrizione vediamo se ne abbiamo un altro ecco qua abbiamo la descrizione di a grandi linee per intenti solo a livello puramente informativo l'obiettivo della costruzione dei circoli che riteniamo che sia la forma più importante e coinvolgente per creare la vera informazione dei cittadini è un vero momento di confronto e di partecipazione noi non possiamo più delegare la politica perché se noi non ci interessiamo la politica disse un grande pensatore la politica si interesserà di noi e lo sta facendo nel modo peggiore in ultimo abbiamo qui ci siamo permessi di unire visto che come associazione MMT Italia MMT sta per Modern Money Theory sarebbe una teoria economica ovviamente di stampo chienesiano e come associazione stiamo collaborando con Vox Italia per spiegare i fondamenti i fondamenti i semplici fondamenti dell'economia che saranno gli strumenti indispensabili per capire e per far capire alle persone quanto questo sistema sia fallace e quanto questo sistema potrà essere migliorabile in pochissimo tempo quando avremo raggiunto tutti quel minimo di consapevolezza per chi volesse informarsi ulteriormente avete un sito un blog o una pagina facebook oltre la pagina facebook di Vox Italia Marche che invitiamo tutti quanti a dare l'amicizia per poter essere informati questo lo chiedo anche chi ha altre idee politiche apparentemente o chi ha posizioni già radicali perché quello che noi cerchiamo con tutti è il confronto è il confronto perché noi siamo pieni di argomenti e di testimonianze importanti da mettere al vaglio e all'attenzione dei cittadini tutto quello che è stato proposto fino ad oggi è fallace menzognero e grottesco oserei dire grottesco da quanto è insostenibile come teoria sia a livello economico che a livello politico poi abbiamo ovviamente il sito di voxitalia punto net che è il sito nazionale e poi ci saranno tutti i siti ovviamente regionali e gli altri siti regionali però i più importanti sono oltre quello regionale e quello nazionale in ultimo per chi vuole approfondire un po' temi di macroeconomia vi assicuro con un linguaggio semplice e per qualsiasi chiarimento abbiamo noi possiamo rispondere attraverso tanti nostri attivisti alle domande e alle cose c'è il sito ammtitalia punto info dove tratta solo ed esclusivamente di macroeconomia però lo fa in un modo molto semplice molto comprensibile a chiunque e credo che sia il primo strumento di valutazione per la politica attuale oggi e per l'euro inteso come moneta dell'eurozona proposta da quest'unione europea che non ne fa una giusta e lei Tiziano Tanari ha un numero di riferimento al quale può essere contattato o un email a quale possono scrivere chi è interessante diciamo che per trattare con me può essere più che sufficiente sul un email sul sito sulla pagina facebook diciamo che è una cosa molto pratica io posso dare il mio numero di cellulare spero che questo sia preso come un grande segno di fiducia nelle persone che vorranno onestamente confrontarsi che è 348 80 48 693 Tiziano Tanari preferisco dare il numero perché con l'email diventa un'operazione molto lunga soprattutto se c'è qualche richiesta di informazione grazie mille e in bocca al lupo grazie 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 a voi grazie